Nel convegno si è presentato il progetto Aptamod, che è un progetto di studio sui sistemi amministrativi di prevenzione della corruzione nei paesi dell'area balcanica, in particolare dei Balcani occidentali. Sono arrivati esperti e referenti dell'autorità anticorruzione di quattro paesi, Serbia, Albania, Nord Macedonia e Montenegro. L'obiettivo complessivo della ricerca è quello di fornire una specie di scatola degli attrezzi per fare prevenzione della corruzione nei contesti ad alto rischio, qual è anche l'Italia. Il volume nasce da un'esperienza particolarmente interessante fatta all'ANAC, cioè di tutte le attività che l'ANAC ha fatto sul piano internazionale, che sono davvero tantissime. L'ANAC è diventata in pochissimo tempo una realtà internazionale riconosciuta da moltissimi paesi del mondo e anche in qualche modo un esempio da cui prendere spunto. Per esempio la Francia nella riorganizzazione del proprio sistema anticorruzione ha preso atto di quello che funzionava l'ANAC e questa esperienza è stata un'esperienza che abbiamo esportato, uno di quei casi in cui il diritto italiano fa scuola. Grazie a tutti.